Allora, ultimo raggruppamento, quello delle Rieri, il signor Salvatore Tripoli dall'Italia. Sluigi, Saluki, Whippet, Piccolo Levriero Italiano, ed ecco il Saluki, Piccolo Levriero Italiano, Allora, al terzo posto, Piccolo Levriero Italiano, al secondo posto, il Saluki, vince Whippet, Allora, i dieci finalisti nel pre-ring, per cortesia, il Border Collie, l'Alano, lo Yorkshire, il Bassotto Caninken, il Samoyedo, Beagle, il Setter irlandese, Cocker Spaniel inglese, C.Y.